Ciao a tutti! Oggi prepariamo la sciarlotta ai frutti di bosco. Ecco gli ingredienti! Per la crema pasticcera scaldate il latte con i semi della bacca di vaniglia. Lavorate i tuorli con lo zucchero, unite l'amido di mais e incorporatelo. Versate metà del latte nel composto e mescolate. Versate il composto nella casseruola continuando a mescolare per creare la crema. Unite 15 g di colla di pesce già ammollata e strizzata. Mescolate. Fate raffreddare la crema con pellicola a contatto. Montate la panna con lo zucchero a velo. Riprendete la crema pasticcera e montatela qualche istante con le fruste per renderla spumosa. Incorporate la panna alla crema pasticcera fredda con movimenti lenti dal basso verso l'alto. Ponete il cilindro sul piatto da portata e iniziate a comporre la charlotte. Bagnate qualche savoiardo nel latte e adagiatelo sul fondo del cilindro. Unite uno strato di crema diplomatica, poi un secondo strato di savoiardi imbevuti di latte, poi un altro strato di crema diplomatica. Ponete in frigo per due ore. In una casseruola frullate i lamponi con lo zucchero. Filtrate con il colino per eliminare eventuali semi. Versate metà composto in un pentolino e cuocetelo per qualche minuto a fuoco lento. Non deve bollire. Strizzate la gelatina e fatela sciogliere nel culi caldo fuori dal fuoco. Mescolate le due salse e lasciatele raffreddare. Tirate fuori dal frigo la charlotte e versate la gelatina di lamponi fredda e riponete il tutto in frigo a rassodare per almeno due ore. Trascorso il tempo di riposo, sfilate il cilindro ed eliminate la carta da forno. Adagiate sul bordo della charlotte i savoiardi uno vicino all'altro in modo da rivestire tutto il bordo. Finite con guarnire la superficie con frutti di bosco e foglioline di menta. La charlotte ai frutti di bosco è pronta. Un saluto da Stefania Rigoni Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.